Radio Bari.doc, documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Punto Doc dedicato al cinema oggi, secondo appuntamento per il cinema al buio. Ne avevamo parlato qualche mese fa, una serata molto carina, molto divertente, anche molto diversa dal solito perché insomma si va al cinema al buio, non nel senso che le luci sono spente, ma perché non si sa che cosa succederà durante la serata. È una serata articolata dalle 20 fino a non si sa a che ora, non si sa quale film sarà proiettato, non si sa ancora il tema della serata di cinema al buio, si sa soltanto il costo del biglietto, ve lo dico, che è di 18 euro e che si può acquistare presso le casse del Multicinema Galleria. Ne parleremo, ne continueremo a parlare del secondo appuntamento di cinema al buio, anche perché insomma io voglio sapere qualcosa in più per questo secondo appuntamento. Lo faremo con qualche ospite durante la settimana, anche perché siamo solo all'inizio, però sappiate, sappiate che ci sarà il secondo appuntamento di cinema al buio proprio questo venerdì 16 maggio, quindi preparatevi perché nelle prossime puntate ne parleremo ancora e vedremo anche dei dettagli, anche perché è una sorta di flash mob cinematografico praticamente in cui si può, insomma si sa soltanto il tema, ricordo la prima occasione, ci si vestì, c'era il tema del, qua mi stanno distraendo in tutto ciò, cioè il tema del, insomma degli anni venti e chissà quali saranno invece le novità per questo secondo appuntamento e ne parleremo, come vi dicevo prima, nelle prossime puntate. Io devo restituire la linea alla TV, però ovviamente continuiamo su Radio Bari, 88.8, radiobari.net. Io prima di chiudere ringrazio per la regia di Telebari Federico Semplice e vi ricordo che le nostre puntate vengono caricate quotidianamente sulle nostre pagine Facebook, quindi radiobari.calto e radiobari e telebari. Grazie ancora per averci seguito e continuate a seguirci su Radio Bari, ciao a tutti!